buongiorno a tutti continuiamo a non lasciarvi soli potrete svolgere questo allenamento nei prossimi giorni tranquillamente dentro casa e adesso iniziamo con un po di riscaldamento potete farlo sia con la corda che senza dopo il riscaldamento passiamo adesso a un circuito di mobilità dinamica fate tutti questi esercizi per 30 secondi ciascuno e ripetete il circuito per due volte e poi Una volta concluso il circuito di mobilità, passiamo a un circuito funzionale da ripetere da 3 a 5 volte. Possiamo utilizzare anche dei sovraccarichi che possiamo trovare in casa, ad esempio un bottiglio d'acqua o animali tipo gatti, cani o qualsiasi cosa potete trovare. Partiamo con il primo esercizio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!